Oggi negli studi Helios è stata registrata l'ultima puntata dell'edizione corrente di Uomini e Donne durante la quale il tronista Daniele ha effettuato la sua fatidica scelta. Il tronista ha deciso di lasciare lo studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi insieme a Gaia. Quello di Daniele a Uomini e Donne è stato un percorso lungo costellato da numerose emozioni, il tronista nel programma targato Canale 5 ha avuto modo di conoscere diverse corteggiatrici, soltanto Mari che Gaia sono però riuscite a conquistare sin da subito la sua attenzione ed è proprio con loro che ha deciso di intraprendere una lunga conoscenza per poi arrivare alla fatidica scelta finale. Mari che Gaia si sono messe in gioco con l'obiettivo di riuscire a conquistare il cuore del bel Daniele che fino all'ultimo non ha esternato la sua preferenza nei confronti di una o dell'altra ma ha preferito viversi questo percorso a Uomini e Donne giorno per giorno. Prima di lasciare lo studio della trasmissione con la corteggiatrice che ha deciso di scegliere, ovvero Gaia, Daniele ha salutato Maria De Filippi e l'ha ringraziata per avergli dato la possibilità di trovare l'anima gemella nel programma da lei condotto. Daniele ha poi salutato con grande affetto i due opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti che nel corso del suo lungo percorso a Uomini e Donne hanno spesso speso per lui parole di grande elogio. Daniele ha deciso di seguire il suo cuore scegliendo Gaia, corteggiatrice con la quale durante il suo percorso nel dating show è riuscita a vivere maggiori emozioni senza nulla togliere all'altra corteggiatrice, ovvero Marika, che comunque ha condiviso insieme a lui momenti molto romantici. La puntata in cui andrà in onda la scelta di Daniele verrà mandata in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Al termine del mese di maggio il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa estiva per poi tornare, con nuove puntate sul piccolo schermo, a settembre 2024, quando molti programmi di punta della televisione italiana torneranno nella loro collocazione abituale. Daniele durante il suo percorso da tronista ha riservato ai tanti appassionati del dating show dei sentimenti targato Canale 5 grandi emozioni, mettendo in evidenza il suo lato romantico. Per ora è tutto, gentili ascoltatori, non ci resta che tenervi come sempre aggiornati con altre news sul mondo del gossip e della televisione italiana. Grazie per l'attenzione, noi come sempre vi lasciamo al prossimo video. Un caro saluto, ciao ciao dalle news!